Questa volta invece accostiamo la musica classica, per eccellenza l'accostiamo a uno standard musicale moderno e quindi invito, insomma in ordine perché vi ho già presentato il tenore Moreno Patteri, ma invito anche Diana Puddu sul palco. Vediamo se arrivano. Facciamo già l'applauso così magari... Io mi sposto, vi do la possibilità di prendere i vostri microfoni. Il prossimo brano è un brano eseguito da Andrea Bocelli e Giorgia e questa sera sicuramente il tenore Moreno Patteri e Diana Puddu non ci faranno sicuramente rimpiangere la loro esecuzione. Vi do qualche accenno sul percorso artistico anche di Diana Puddu che comincia a cantare all'età di 11 anni partecipando a diversi concorsi canori radiofonici e televisivi regionali. Nel 1976 partecipa con successo alle selezioni per Sanremo ma per motivi di età, era minorenne all'epoca, quindi non faccio scoprire la sua età, non fu possibile la sua partecipazione. Ha cantato in diverse formazioni di musica leggera esibendosi anche all'estero. Una cosa, tengo a sottolineare, nonostante le sue doti vocali ha un grande rammarico di non essersi mai avvicinata professionalmente allo studio del canto. Quindi lo fa con grande passione e questo è per invitare tutti coloro che hanno voglia di avvicinarsi alla musica, che possono farlo in diverse maniere. A livello professionale come i nostri maestri Moreno Pateri e la nostra Anna Maria Fasolino, alla banda che è davvero una grande scuola, una grande scuola per tanti musicisti. Qui ci sono davvero anche dei grandi professionisti oltre a non professionisti. Il maestro Nicola Corrias, la banda Città di Quartus Sant'Erena, vi fa ascoltare Vivo per Lei. Vivo per Lei da quando sai La prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come ma Mi è entrata dentro e c'eri stata Vivo per Lei perché mi fa Vibrare forte l'anima Vivo per Lei e non è un peso Vivo per Lei anch'io lo sai E tu non esser né geloso Lei di tutti quelli che Hanno un bisogno sempre acceso Come uno stereo in camera Per chi è da sole adesso sa Che anche per lui per questo Io vivo per Lei è una musa che ci invita a sfiorarla con le dita Attraverso un piano forte La morte è lontana Io vivo per Lei è una musa che ci invita a sfiorarla con le dita In città in città Soffri un po' ma almeno io vivo E quando il mio lavoro E il mio cielo crevo crescerà Il mio cielo crevo crescerà Attraverso la mia voce A 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 mia voce E con Dio mi contrarò, che non vedrà l'oscritto in viso, io vivo per me, io vivo per me. E con Dio mi contrarò, che non vedrà l'oscritto in viso, io vivo per me. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pause, notte e libertà, ci fosse un'altra vita, la vivo, la vivo per lei. Vivo per lei perché mi dà pause, non vedrà l'oscritto in viso, io vivo per lei. E con Dio mi contrarò, che non vedrà l'oscritto in viso, io vivo per lei. Dio mi contrarò, che non vedrà l'oscritto in viso, io vivo per lei. La banda musicale Città di Quarto, il maestro Nicola Corrias, bravissimi. Questa sera ci stanno davvero regalando emozioni, non so a voi, ma dietro le quinte, per me che sono anch'io un musicista, il suono è bellissimo, questa grande rappresentazione scenica, ma l'armonia in generale. Quindi è proprio davvero una grande banda. Facciamo un applauso ancora forte, davvero bravissimi. Grazie.